puntese gomme dal 1997 si prende cura della tua auto e per farlo al meglio si serve della più moderna tecnologia partner maestro michelin offre ai suoi clienti un'assistenza completa e di qualità dalla scelta degli pneumatici più adatti al loro montaggio convergenza equilibratura rivendita e da oggi anche meccanica puntese gomme in via della regione 102 104 a san giovanni la punta e la risposta che cerchi a tutti i tuoi problemi ben ritrovati amici stellari iniziamo con il segno dell'ariete sarà una settimana difficile anche se la tendenza sarà molto promettente il risultato finale dipenderà da voi non mancheranno le opportunità e le idee sorprendenti ma per raggiungere un obiettivo imponente prefissato occorrono tenace l'impegno se sarete in grado di sostenere sin da subito incessanti ritmi sarete sulla strada giusta toro un cielo favorevole sul vostro segno che se ben sfruttato darà una marcia in più rispetto a qualche settimana fa e se userete l'intuito e l'astuzia le difficoltà create da un saturno opposto ormai trascorso si trasformeranno in opportunità non fatevi distrarre da altro è il momento di cogliere l'attimo e di prendere al volo gli eventi fortuiti senza lasciarseli scappare gemelli una settimana che promette bene se userete disciplina e ucratezza si risveglia l'economia una serie di eventi annuncia una ripresa non è ancora il momento di esultare aspettate qualche altro giorno giove riprenderà il suo moto diretto tutto assumerà una certa consistenza specialmente le finanze che provano non avere più nessuna speranza cancro anche se non sarà un inizio settimana strepitoso non vi mancheranno gli appoggi giusti marte darà la sicurezza che vi state muovendo bene avete scelto la strada migliore da intraprendere nettuno da quel po di immaginazione che ci vuole per creare gli obiettivi interessanti e che vi appassionano leone l'armonia di casa quella familiare compresa di figli e coniuge che sembrava essere utopia è diventata pura realtà un accordo vi è costato caro in termini di stress ma adesso il risultato finale vi darà l'appagamento che cercavate per il prossimo futuro se non gestirete la vostra vita e tutto quello che le gira intorno con la naturalezza leonina e senza forzature sarete punti a capo vergine gli amori giovani saranno i più favoriti le storie che nasceranno sotto questo cielo saranno piacevoli e interessanti per la nuova coppia mentre nelle relazioni stanche in preda crisi la giornata si presenta difficile sarà l'umore quello che vi appesantirà e vi disturberà tenete duro il transito di luna rende difficile un chiarimento e potrebbe peggiorare una situazione già complessa bilancia un'attrazione fatale un incontro mozzafiato un appassionata venere che vi renderà liberi di manifestare senza freni inibitori le vostre emozioni sarete indiscussi e affascinanti corteggiatori le vostre vittime se così si potranno piacevolmente definire saranno consapevoli e felici di cadere nella vostra rete scorpione inizierete un'altra settimana più propositiva che mai tra viaggi nuovi contatti dei eccellenti e personaggi autorevoli l'ottimismo sarà incontenibile poca però l'energia fisica ma sorprendente quella mentale sarà l'alternativa migliore alla quale affiderete un progetto importante che riguarderà il vostro prossimo e neanche tanto lontano futuro sagittario avete la possibilità di riprendere in mano l'aspetto finanziario che vi riguarda da vicino nell'ultimo periodo troppa sfiducia vi ha tolto quel modo singolare unico positivo che avete di affrontare gli imprevisti avete perso un po di smalto ma siete pronti a recuperare bene inizierete con un impegno economico grazie a un'idea che rivoluzionerà lo stato delle cose creerete una nuova opportunità per risanare le vostre casse capricorno sarà un bene difendersi come farete senza mezzi termini però con le giuste regole non esitate davanti a chi si reputava amico cominciate a prenderne le distanze acquario marte la luna interrompono bruscamente un progetto professionale qualcuno si pentirà di una scelta azzardata sarà solo una mirabile scusa da parte di chi si dal primo momento non dava chance diciamolo pure sospetti se siete caduti in una trappola non assumetevi alcuna colpa questa volta non ci sarà nulla da rimproverarvi la vostra buona fede e i vostri obiettivi vi faranno onore fate un'esperienza per il futuro e pesci cielo influente il campo delle amicizie vi porterà molto in alto sappiate seguire chi vi insegnerà la strada maestra non perdetevi nei vostri sogni state svegli sappiate essere allievi e non professori affidatevi all'esperienza di chi potrà creare magicamente l'iniziazione di una vostra nuova realtà è un abbraccio stellare da lucia rena l'oroscopo è stato offerto da puntese gomme via della regione 102 104 san giovanni la punta l'oroscopo è stata fondamentale Grazie.